Eccoci qua, da un po' di anni a questa parte, circa 24 da quando ci occupiamo di informazione per quanto riguarda la Liguria, eravamo abituati a quest'ora a dirvi, ben ritrovati al consueto appuntamento con informazione regionale di mezza giornata. Oggi non lo possiamo fare, o non lo possiamo fare direttamente dallo studio dell'emittente, ma lo facciamo da casa nostra, dalla cucina. E' una cosa a cui non eravamo abituati, di solito a quest'ora eravamo abituati ad andare in onda, a raccontarvi quello che succede, quello che insomma era successo nel corso della mattinata. Oggi non è possibile, siamo in sciopera a causa di una dura avvertenza che vedrà azzerata, tra le altre cose, la redazione genovese della nostra emittente e tutto il suo personale licenziato. Allora lo facciamo, non potendolo fare dal studio, lo facciamo da casa nostra. Lì alle nostre spalle sta cuocendo la pasta, è quasi ora di buttare e servire in tavola. Facciamo la cosa a cui non eravamo mai abituati a quest'ora, ma non ci dispiace nemmeno, perché la cucina fa parte delle nostre passioni, la nostra passione. Però, altra passione che abbiamo, è forte, è stata sempre quella di raccontarvi ciò che stava accadendo, da avere un dialogo costante con voi. Probabilmente non per colpa nostra, almeno nelle forme a cui eravate abituati da 24 anni a questa parte, non sarà più possibile. Allora siamo giunti a questo, siamo in cucina, la pasta è quasi cotta, allora non è il momento di dirvi ben ritrovati al consueto momento dell'informazione, non è il momento di andare in onda, ma è il momento di andare in tavola. Andiamo a scolare la pasta e vi diamo appuntamento e arrivederci. Restate con noi!